Invitiamo l'ASL ad una comunicazione più certa e diffusa in merito alle modalità di prenotazione. Quello che sta succedendo con lunghe file, chiamate alle forze dell'ordine, addirittura delle risse, che ci raccontano all'outlet village di Sant'Angelo, finiscono soltanto per disincentivare le persone che si vogliono andare a fare il vaccino, la terza dose in particolare. Prima non serviva la prenotazione, ora serve la prenotazione, occorre dare una informazione chiara ai cittadini della provincia di Pescara e assieme a questo occorre registrare per bene il funzionamento del link che consente le prenotazioni, perché a molte persone, per esempio, l'outlet village di Città Sant'Angelo non esce, non la dà come data di prenotazione e questo finisce per disincentivare le persone che in alcuni casi vengono dirottate addirittura nel lab vaccinale di Teramo. Questo si somma al grave ritardo con cui è stato aperto l'ab vaccinale per la città di Pescara, una città di 120.000 abitanti che non l'ha posseduto fino a qualche settimana fa e che ancora oggi consente soltanto la somministrazione del vaccino moderno, il che significa che per molti che hanno fatto il Pfizer come prima e seconda dose, diciamo, vorrebbero continuare con quel vaccino e quindi non si recano nel lab vaccinale di Pescara. Nel ringraziare i volontari, tutti quanti che si sono messi a disposizione, medici, protezioni civili, eccetera, e nel comunicare anche che da domani sarà possibile prenotarsi per la vaccinazione per i diciottenni, chiediamo invece che la comunicazione sia certa e che sia registrato il funzionamento al link.